L'attenzione rimane altissima, non potrebbe essere diversamente. A fine agosto scadrà l'attuale gestione delle piscine Lenaiadi. Lunedì scorso è stato pubblicato il bando di gara europeo per l'affidamento in concessione ventennale del centro sportivo. Il 31 luglio alle ore 12 scadrà il termine per la presentazione delle domande. La Regione, proprietaria dell'impianto, è fiduciosa che tutto ciò possa consentire l'individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura. In questo momento ci sono diverse criticità, ciò malgrado è sempre spiccato il senso di abnegazione e di professionalità dei lavoratori. Guido Cupido, segretario SLC, CGL, Abruzzo Molise. I lavoratori sono preoccupati? È assolutamente così. Finalmente abbiamo pubblicato un bando per l'aggiudicazione ventennale. Ci sono dei problemi di natura energetica, ci sono dei problemi di natura strutturale che evidentemente cominciano a dare segni. E noi chiediamo che in questa fase, che comunque rimane una fase delicata, la Regione rimanga vicino alla struttura, rimanga vicino ai lavoratori per permettere questo traghettamento di questi due mesi, permettere che la gara, quindi l'aggiudicazione al nuovo soggetto che vincerà questa gara possa avvenire in maniera meno traumatica possibile per tutti. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo in pugno. È anche una cosa che voglio dire che ci emoziona a tutti. Abbiamo raggiunto con il supporto di tutti e con l'aiuto di tutti, chiaramente anche in primis, dei lavoratori che in questa fase così delicata stanno stringendo la cinghia, stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo per permettere che quella struttura continui a dare servizio. E che l'ha ricordata, quella struttura è aperta e continua ad essere aperta. Va altresì ricordato che all'interno delle piscine, le naia di oltre ai dipendenti, lavorano i 40-50 cosiddetti collaboratori sportivi meritevoli di altrettanta tutela. Questa è una nota dolente, nel senso che nel bando, evidentemente, nella cosiddetta clausola sociale non ci può essere per tutti. È prevista solo che ci sia e c'è per i lavoratori dipendenti, quindi strutturati. Noi dobbiamo lavorare insieme alla regione perché ci sia una prospettiva occupazionale anche per questi lavoratori, che sono quelli più vulnerabili e quindi più esposti e anche lavoratori a cui nessuno oggi sembra prestare attenzione o dare fiato. E quindi noi invece siamo il sindacato di tutti.